buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale youtube make up occhi verdi oggi vi porto con me a varsavia ero stata a varsavia diversi anni fa quando era morto giovanni paolo secondo per cui mi sono trovata nuovamente in questa città ed ho avuto la fortuna di soggiornare nello stesso hotel che è il soffitel vittoria è un hotel molto bello con una posizione centralissima che vi consiglio veramente per chi ha poco tempo e si vuole trovare direttamente in centro non lo sapevo ma il giorno che sono arrivata a varsavia giocava appunto varsavia senegal per cui veramente la città era bloccata e particolarmente gli uomini avevano tutti come dire gli occhi incollati direttamente sugli schermi della tv per cui quando mi sono recata in centro subito mi sono resa conto che tutti i bar erano ricolmi di tifosi mi sono diretta subito verso stare miasto cioè verso la città vecchia che è dominata sulla destra dal castello sulla sinistra da tutta una serie di casette vedete coloratissime e subito sia la possibilità attraverso dei vicoli di arrivare sia alle mura di varsavia ma anche a quella che è la piazza del mercato la più caratteristica forse la foto più classica che si fa a varsavia come come la scorsa visita anche questa volta ho trovato tantissime scolaresche che evidentemente approfittano in estate per fare con il bel tempo delle belle gite e dunque veramente è stato simpatico girare per il centro tranquillo grazie alla partita e comunque come dire rallegrato da queste piccole scolaresche per una serie di motivi sono quasi digiuna dal mattino a parte qualche snack per cui decido di mangiare presto e verso le 6 mi fermo in questo ristorante dovete sapere che a varsavia si mangia con porzioni molto abbondanti a un costo veramente modico considerate che nella piazza del mercato che questa con meno di 10 euro ho potuto diciamo assaporare a parte questo antipastino con questa carne affumicata e questo formaggio alle erbe che vi ho mostrato ma soprattutto questo petto di pollo alla griglia con spinaci patate al forno e insalata un piatto ricchissimo per una cifra veramente per me ridicola e dunque il giro una volta rinvigorita da una bella scena e mi dirigo verso le mura le mura appunto sono tutte in un mattonato rosso molto caratteristico per varsavia e per chi appunto si trovasse da stare miasto ad andare verso le mura ricordatevi di questo negozio militaria che vende tutti oggetti di antiquariato non solo legati comunque alla alla guerra ma anche e oggetti di antiquariato in generale vedete macchine fotografiche per cui è molto simpatico farci un bel giro all'interno grazie ormai la partita è finita fra l'altro la polonia ho perso vedete tifosi tornano un po' sconsolati e dunque anche io pian pianino mi dirigo verso il mio hotel perché veramente sono molto stanta anche perché al mattino dopo avrò una sveglia piuttosto presto questa è la sala del hotel una sala colazione è veramente bellissima arredata con colori piuttosto innovativi con questa questo gioco anche per per i mondiali è veramente un'atmosfera piacevole credo sia la sala per colazione più interessante io abbia mai visto anche per una diciamo offerta veramente pazzesca tantissimi camerieri giovanissimi e omelette fatte diciamo fresche smoothie parte salata molto ricca anche perché in polonia vedete addirittura con il pesce in polonia si usa fare una colazione molto abbondante e sul salato io ovviamente come italiana non mi sento proprio di affrontare al mattino queste cose così diciamo caloriche e preferisco fare una colazione leggera magari con un semplice cappuccino è una cosa dolce per cui appunto così mi sono orientata non ciò non di meno comunque ho voluto farvi vedere un po' la sala è tutto ciò che offriva ecco qui addirittura c'era chi faceva centrifughe questo non l'avevo mai visto nessuna nessun hotel questo è latte di nuovo tanti formaggi tanta frutta e anche libri che si potevano prendere per intrattenersi durante la colazione come vi dicevo quindi rinvigorita da questa bella colazione e mi dirigo all'esterno e che cosa vedo questa volta decido di andare da un'altra parte di andare verso la strada più commerciale di varsavia che è questa qui caratterizzata eccola qua la martha losca non lo so dire caratterizzata da un grande movimento negozi diciamo europei dai nostri anche zara eccetera eccetera ma anche negozi locali quello che vedete sullo sfondo il palazzo della scienza della cultura di varsavia sulla quale si può anche salire e da lì si gode veramente un'ottima vista quando ero stata anni fa fra l'altro non c'erano i grattacieli intorno all'interno di questo centro commerciale ho trovato anche due iniziative culturali insomma veramente a varsavia una vita molto 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 moderna insomma sempre più vicino a ciò a cui siamo abituati intorno al centro commerciale dove fra l'altro c'era questo molti sala davano dei post c'era questa questa parte di quartiere molto vivace con tutti i localini dove grazie al bel meteo i locali si intrattenevano a mangiare una cosa o a prendere un aperitivo io ho ritrovato il ristorantino dove ero stata anni fa sphinx che ora vedrete e stavolta ho voluto mangiare una cosa molto un hummus e un tabule una cosa molto diciamo orientaleggiante ma altrimenti qui si mangia dell'ottima carne alla brace questo cagnolino ci ha fatto la che mi ha fatto compagnia durante la cena e questo piano piano è la fine della giornata quando mi sono come dire rendirizzata verso l'hotel caratteristico visto che vanno tutti in bicicletta questa torretta dove ci sono attaccati tutti gli attrezzi per le biciclette una cosa che non avevo mai visto veramente e con un saluto al monumento del milietegnoto che fra l'altro è proprio di fronte l'hotel dove sono stata quindi il soffitel vittoria saluto varsavia al mattino di nuovo una buona colazione e subito riparto per l'italia è stato un viaggio breve ma appunto dettato da necessità lavorative dunque ragazze vi saluto spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi i vostri commenti e non dimenticate di lasciare un like ciao ragazze a presto ciao 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 ciao